Al Fano incontra i dissidenti del PDL e tira il freno. La frattura con Berlusconi era inevitabile, ma non è ancora irreparabile, confide il vicepremier. Non è detto che non si possa ricomporre l'unità del partito e che la rottura sia definitiva. Ma l'ex delfino del Cavaliere vuole garanzie assolute sulla linea, sull'organigramma, chiarimenti che chiederà forse questa sera lo stesso Berlusconi, in un faccia a faccia che negli auspici di Al Fano potrebbe segnare un'inversione di rotta, con l'emarginazione dei falchi, sconfitti e già sul chi vive, e le colombe finalmente nella prima cerchia del Cavaliere. Prospettiva tutt'altro che agevole, dopo le ultime drammatiche 24 ore, con lacerazioni consumate anche sul piano personale, scambi di accuse pesantissime. Ci sono due classi dirigenti incompatibili, commenta Quagliariello. L'inversione a U di Berlusconi sulla fiducia al governo comunque rallenta, di fatto, la traiettoria di allontanamento dei dissidenti. Sul varo dei nuovi gruppi parlamentari degli obiettori del PDL, dal nome ancora ignoto, la nebbia si fa fitta. Sembravano cosa fatta in mattinata, confermati anche dopo il colpo a sorpresa di Berlusconi da Giovanardi e Formigoni. La mia proposta resta in campo, io ribadirò la proposta di formare dei gruppi autonomi per una chiarezza politica. Sono felice che il PDL abbia deciso di votare la fiducia, ma la chiarezza politica che dobbiamo ai cittadini è che questo è il gruppo delle persone che comunque avrebbe sostenuto il governo Letta. L'ex governatore Lombardo dà i suoi numeri, 25 al Senato, altrettanti alla Camera. Iniziano a circolare i nomi, oltre a quelli dei firmatari del documento di sostegno a Letta a Palazzo Madama, ma a stretto giro arrivano smentite defezioni. Su tutte quelle dei ministri Alfano, Lupi, De Gironomo e Quagliariello. Lupi nega che ci sia una nuova maggioranza, il PDL è unito, assicura. Per ora la richiesta di formazione di un gruppo autonomo si concretizza solo alla Camera. Cecchitto la ufficializza, gli aderenti al momento sono 12, sotto la soglia minima di 20 per non essere inglobati nel gruppo misto. In serate i dissidenti si riuniranno per discutere della nascita del gruppo a Palazzo Madama. Berlusconi è deciso a scongiurarla. Mi sono battuto e mi batterò contro ogni diaspora, dice il capogruppo al Senato Schifani. E i vertici del partito hanno inviato un modulo a tutti i parlamentari eletti per l'adesione ai gruppi di PDL Forza Italia.